Buongiorno e benvenuti a Occhio ai Giornali, la rassegna stampa in diretta di Fano TV. Tutte le mattine apriamo una finestra sui giornali che poi troverete e troveremo in edicola. Prima di guardarli e di sfogliarli però il santo del giorno e le previsioni del tempo. Oggi mercoledì 22 luglio, Santa Maria Maddalena di Magdala, il sole è sorto alle 5.45 e tramonterà alle 20.44. Ed ecco la finestra sul cielo che vi regaliamo tutte le mattine con la nostra webcam. Vedete non c'è alcuna nube all'orizzonte quindi anche oggi si prospetta una giornata di sereno. Queste sono le temperature in questo momento. Ci sono quasi 25 gradi e l'umidità è del 68%. L'evoluzione per i prossimi giorni è questa. Siamo ancora in una situazione di stabilità e di bel tempo. Durerà per tutto il weekend. Quindi per mercoledì oggi sereno, poco nuvoloso, transito di velature e addensamenti cumuliformi. Però come vedete nella cartina la simbologia è chiara soltanto sui rilievi. È anche presente la simbologia della pioggia. Quindi possibilità di rovesci e temporali sui rilievi. In particolare però sui versanti ad ovest. Temperature stazionare, lieve aumento dei massimi. E quindi quelle per domani invece sono più o meno le stesse. Vedete compare un po' più di nuvolosità anche sulla costa. Si intensificano i rovesci e i temporali sul crinale appenninico. Le temperature sono stazionare o in lieve aumento i massimi. Quindi ci avviamo veramente verso temperature medie da record. Dopo lo vedremo. Venerdì, quindi primo giorno di ingresso nel weekend. Anche qui sereno, poco nuvoloso. Attività cumuliforme pomeridiana. Però nessuna precipitazione. Temperature però che segneranno una dinamica di inversione delle temperature. Quindi in lieve diminuzione. Guardiamo la tendenza che ci dicono gli amici della protezione civile. Quale sarà? Lieve instabilità per il fine settimana. Inizio dalla prossima settimana invece si sarà un calo delle temperature. Già dal fine settimana. Quindi ci abbiamo ad avere temperature leggermente più confortevoli. Diciamo così la prossima settimana. Però questo è un luglio record come temperature. Addirittura ha battuto le temperature del 2003 che furono sicuramente come media. Non come picco massimo. Importanti e qualcuno se la ricorda ancora. Me compreso. Però partiamo dalla cronaca e dal fermo. dei due albanesi per l'omicidio di Sant'Angelo Invado del 17enne. Persa l'innocenza. Assalto agli albanesi. Tafferugli e tentativi veramente di linciaggio da parte di amici, parenti e concittadini. Per questi due fermati. La folla assedia la caserma. Quando si è capito e si è sentito che all'interno c'erano i due. Date a noi, grida la folla. E il parroco dice che è impossibile da capire una cosa del genere. Esplode la rabbia. Calce e pugni sulle auto. Con i due fermati. La destinazione era il carcere. E' stata una lunga giornata. Già il cugino di Ismaele era stato trattenuto a fatica dai militari. Per il tentativo di scagliarsi contro i due che venivano portati via. L'altra pagina in primo piano del resto del Carlino. Due pagine anche oggi dedicate a questa vicenda. Fermati i due giovani albanesi. Ismaele ucciso per una ragazza. Sembrerebbe uno sgarbo passionale alla base dello sgozzamento delle diciassettenne. Eccoli qui mentre escono dalla caserma. E qui veramente momenti di grande tensione. E qui addirittura sono arrivati a placare i carabinieri con non poche difficoltà. Tutta la folla che si era assembrata davanti alla caserma. Dopo l'assassinio uno dei due ragazzi stava fuggendo in Albania. Trovati gli indumenti insanguinati. E gli indumenti nei pressi della chiesa. Cambiamo argomento. Oggi ci sarà una conferenza stampa dei carabinieri. Quindi vi daremo questa sera nel Tg delle 20 e 30 ulteriori delucidazioni su come si è arrivati a questo fermo. E se c'è qualche ammissione da parte dei due. E che cosa hanno detto. Attendiamo appunto di andare in conferenza stampa dei carabinieri questa mattina. E questa sera avrete maggiori informazioni su questa vicenda. Cambiamo argomento. Vi dicevo la temperatura. Il grande caldo nel 2003 la media era di 26,8. Siamo a 26,9. Quindi superato. Superato il rotta la soglia record del 2003. Però questo crea dei problemi non soltanto a noi ma anche al mare. A parlarne è Corrado Piccinetti. Il professor Corrado Piccinetti, direttore del laboratorio di biologia marina di Fano. Dice siamo già a 27 gradi. E lui dice se non finisce presto alcune specie cominceranno a soffrire. Ma non sarà soltanto il mare a soffrire ma c'è anche il rischio di siccità. Perché se il caldo prosegue rischiamo di rimanere senza acqua. Marche molti servizi. Dice l'azienda torna a spingere per lo sfruttamento dei giacimenti profondi. Approvvigionamento. Incontro con i sindaci della provincia. C'è i vertici Ato per definire le strategie. Perché se permane questa temperatura così elevata. Il rischio c'è per l'approvvigionamento idrico. Andiamo nelle pagine di Fano del resto del Carlino. Un'altra vicenda che tiene alta la temperatura è quella del Carnevale. A parlare questa volta sono i carristi coloro che creano materialmente i carri. Che attirano tante persone al Carnevale tutti gli anni. Insomma i carri sono l'anima del Carnevale. Lo ribadiscono. Lo vogliono fortemente ribadire. Lo dice anche un'indagine commissionata proprio dall'ente carnevalesco. Che dice i carri sono al centro ma non i carristi. Perché vogliamo e rivendichiamo più spazio e peso politico nella gestione della manifestazione. Compaiono e ricompaiono dei lenzuoli. Che appunto dicono volete toglierci questo bellissimo corteo estivo del Carnevale. Che ci piace tanto. Insomma quindi vedete i lenzuoli tornano a parlare. Ridateci appunto quello estivo. Parlano anche i commercianti. Quindi insomma veramente sono molte le voci che esprimono malcontento per questa decisione. Presa a torto collo dal Comune per una questione di fondi. Ridateci quello estivo. Domani gli operatori economici si incontrano con il sindaco Seri per scongiurare il corteo. Che è stato annunciato per lunedì 27. Proprio per protestare da parte dei commercianti sull'assenza del Carnevale estivo. E l'altra manifestazione che ha beneficiato dei fondi del Comune è stata Fanogez. che è stato un po' insomma questo il contendere anche nella conferenza stampa. Fermo restando che insomma sono scelte strategiche e quindi però insomma se una sale l'altra scende. Questo dicevano anche e ha detto anche Ruben Mariotti in conferenza. Mai così in alto Fanogez. Una grande occasione per il festival e la città. Parla Adriano Pedini che presenta l'edizione di rilancio. Si vuole offrire una proposta globale, completa e appunto per invitare il pubblico a seguire e vivere la Kermesse nel suo insieme. Quindi vederla nel globale. Di modo che oltre ai nomi di grande richiamo si possono anche ammirare e scoprire, perché no, sono musicisti meno famosi che magari non vengono passati nelle emittenti oppure magari non si conoscono e quindi si possono fare belle scoperte grazie appunto a Fanogez. Divertimento e solidarietà, parliamo della festa della Glupa che esiterà questo fine settimana. Una festa della Glupa che è pensata al prossimo, pensata con un fondo di solidarietà in tutti gli eventi che la attraverseranno. Corriere Adriatico, Pesaro e allarme appunto per l'acqua non sprecate, si riducono le scorte, Marche Multiservizi, si appella ai sindaci per il razionamento, quindi per evitare conseguenze più disastrose. Si accascia per l'AFA appena fa il bagno, è accaduto a Gabice Mare, una turista lussemburghese, soccorsa in spiaggia che grazie a un defibrillatore è stata salvata, interviene anche un'eliambulanza, ma non ce n'è stato bisogno. Andiamo a Fossombrone, parliamo di sanità, sempre nelle pagine del Corriere Adriatico, investimenti non usati, è un male comune un po' in tutta Italia, questo l'abbiamo visto più volte in tanti servizi, ci sono le apparecchiature, si spendono i soldi per comprarle, soprattutto anche di ultima generazione, per un milione di euro, ma non c'è il personale per adoperarle, quindi la sanità che non va. Al Comune di Pesero hanno approntato il fondo anticrisi con 150 mila euro a favore delle famiglie, meno abbienti. A Fano invece con il Corriere Adriatico si parla anche qui di carnevale e con la conferenza stampa che si è tenuta ieri, dicono noi snobbati, eppure siamo il carnevale, i carristi protestano per la sospensione dell'edizione estiva e anche per l'occasione persa della Notte Rosa, sì perché una delle proposte che loro avevano avanzato, che vorrebbero avanzare, oltre a già le tante che hanno sempre portato avanti, è quella di coniugare un po' la Notte Rosa, questo evento così bello, così piacevole, anche col Carnevale di Fano, che rappresenta un po' la cifra stilistica della città di Fano, una delle cifre stilistiche della città di Fano, quindi perché, loro dicono, essendo la Notte Rosa una notte di festa, non si possono legare le due manifestazioni? Ed è venuto anche da Sorcinelli un esempio molto internazionale, New Orleans, perché no? Loro hanno carnevale e jazz e musica, insomma, perché non possiamo coniugare tutte queste cose? Il carnevale è un contenitore nel quale si può fare di tutto. Ceriscioli riveda i tagli ai servizi sociali, questo è l'appello che arriva da Pergola, il sindaco Antonio Baldelli e il capogruppo, lancia Antonio Baldelli, il capogruppo di maggioranza, e il sindaco, che dicono, lanciano un appello a nuovo governatore, perché minaccia in questo senso un bagno di sangue se i tagli saranno portati avanti. Vigili e sicurezza, come coniugare le due cose? I vigili fanno rispettare le regole, la giunta di Fano difende la dignità del corpo e respinge le critiche alle multe, però non la pensano così dall'opposizione, in particolare Maria Antonia Cucuzza, l'ex vice sindaco, dice che i numeri parlano chiaro, perché c'è stato un aumento nel bilancio preventivo per l'importo derivante dalle multe, che è salito da 950 mila euro a 1 milione e 350 mila euro. Questo dice Maria Antonia Cucuzza e quindi insomma un aumento del circa del 67% del gettito nelle contravenzioni nel bimestre maggio-giugno 2015 rispetto a quello del 2013. quindi insomma le cifre non sono interpretative, insomma i numeri sono numeri, parlano da soli. Ucciso a 17 anni per gelosia, siamo nel messaggero di Pesaro, due albanesi fermati dopo due ore di interrogatorio dai carabinieri in caserma e il giovane avrebbe corteggiato, questo è il suo orribile delitto per il quale meritava questa orrenda fine, avrebbe corteggiato una fidanzata di uno di loro e per questo ha fatto la fine che ha fatto e vedete la folla, la folla inferocita davanti alla caserma all'uscita, i carabinieri stentano a trattenere, esplode la rabbia di Isma, era il nick di Ismaele, lo vediamo qui in questa bella foto, per gelosia e fermati i due giovani, ancora le foto della rabbia degli amici che dicono appunto dateli a noi per dieci minuti, l'assalto della gente appunto all'uscita della caserma bloccata, la reazione anche di un parente, un'azione un po' più violenta e esagitata rispetto agli altri però dice incredulità e sgomento, il sindaco Luzia ieri ha convocato una giunta straordinaria per proclamare il lutto cittadino, la trasformazione di Isma, adesso si va a scavare un po' sulla vita di questo ragazzo aveva altre frequentazioni e si scandaglia un po' la vita per cercare di capire come si è arrivati all'amicizia e alla commistione con queste due persone che poi gli hanno fatto fare la fine che gli hanno fatto fare quindi si vede anche il perché. Parliamo di sicurezza nelle pagine di Pesaro con la task force messa in campo per spiagge più sicure e salvataggi in mare, vigili del fuoco con moto d'acqua in aiuto alla capitaneria mentre polizia e finanza vigileranno sul commercio abusivo. Il prefetto ringrazia le sponsorizzazioni delle banche preziosi in un momento in cui le risorse pubbliche sono ridotte e quindi grazie a questo apporto vedete i vertici riuniti in prefettura per esporre proprio questo piano, le risorse sono importanti senza di queste non si riescono a pianificare delle azioni di contrasto che esulano un po' dal binalcio ordinario e qui insomma il ringraziamento del prefetto per quanti ci hanno messo del loro. Fano, l'ultima pagina del messaggero è quella che vi proponiamo, anche qui carristi contro, è la guerra del carnevale anche qui si fa riferimento alla conferenza stampa, Osvaldo Scatassi parla della conferenza stampa di ieri una cordata di operatori attacca frontalmente i colleghi e l'ente che gestisce la più famosa manifestazione della città al centro alla disputa della disputa ci sono problemi di soldi, devono avere l'ultima tranche per il pagamento del carnevale 2015 ma anche organizzazione e rappresentatività perché appunto dicono l'animo del carnevale sono i carri appelli anche al comune perché Cambirotta faccia un progetto di carnevale che sia comprensivo di tante cose in centro pagina c'è anche la risposta della carnevalesca per voce di Cecchini che dice sputano nel piatto dove mangiano, il responsabile della carnevalesca spiega anche i ritardi nei pagamenti e alza un po' il tono, alza un po' la voce e dice facciano il loro mestiere ma Ruben Mariotti dice anche nell'evento di presentazione del carnevale all'Expo che è stata un po' la vetrina internazionale noi che i carri li facciamo non ci ha voluto nessuno e non ci hanno voluto nemmeno per dare via i volantini e quindi questo è stato il suo amaro commento Sorcinelli, l'altro di Fantagruel, l'altra associazione che partecipa al carnevale dice in città è tutto fermo, serve aria nuova bene, questa era l'ultima notizia che vi proponevamo per questa mattina in occhio ai giornali, grazie per essere stati insieme a noi e aver iniziato insieme all'informazione di Fano TV la vostra giornata questa sera alle 20.30 il telegiornale buon proseguimento a tutti voi